Puede esserci la protezione civile in questi casi, considerando il fatto che siamo in pieno periodo turistico e chi viene qui per passare una vacanza osserva il degrado di una città che sta cadendo pezzo pezzo. Così è una vergogna di immondizia che non viene tolta dalle strade, è veramente uno schifo. Ormai l'esasperazione è ai massimi livelli. Sono settimane che Palermo invasa dai rifiuti per lo stato di agitazione dei dipendenti dell'Amia, l'azienda di igiene ambientale del capoluogo siciliano recentemente dichiarata fallita. Settimane in cui i rifiuti si sono accumulati in vere e proprie discariche lungo le strade delle città, dalla periferia al centro. Ogni notte ormai illuminata da luci sinistre, quelle dei cassonetti e dei cumuli di spazzatura dati alle fiamme. Solo ieri gli interventi dei vigili del fuoco sono stati più di 40, con tutte le unità operative del comando provinciale di Palermo impegnate. E adesso le stesse scene si cominciano a vedere anche di giorno. Oggi il presidente del Senato, Piero Grasso, ha chiamato il curatore fallimentare dell'Amia, Mario Serio, per essere informato sulla situazione dell'emergenza. Intanto da Palermo parte l'appello al governo regionale e nazionale perché, e questo è evidente, non bastano le risorse messe in campo fino ad ora. Per risolvere la situazione servono altri uomini e altri mezzi, come per l'emergenza ai rifiuti di Napoli del 2008, quando vennero inviati uomini dell'esercito.